Un'idea di frammentazione. Nessuno si può aspettare oggi di iniziare un'esperienza professionale e di proseguirla per anni. E questo significa poter cambiare in meglio. In altre situazioni significa dover ricominciare. Quindi questo sicuramente è l'aspetto negativo. E questa frammentazione mi fa pensare anche alla necessità di coltivare una rete di contatti che possa permettere di affrontare la frammentazione. Oltre ad avere delle competenze professionali bisogna avere anche delle grosse competenze sociali per mantenere la rete, per migliorarla e per ottenere da questi contatti delle opportunità di lavoro.